ciao oggi faremo un video bellissimo faremo una sfida in verticale verticale sulla trave camminate lateralmente vediamo chi riesce a fare più passi Irene fai vedere tu per favore perché ridi Emma? ma sei sicura? vediamo Irene allora salite in verticale e piano piano non c'è tempo quindi potete farlo molto lentamente ok ecco vediamo chi riesce a fare più passi va bene chi comincia? vai Michi la compagna che partirà dopo la Michi si comincia un po' ecco brava brava Emma andate a prendere anche il disinfettante parti tu Michi vai partite in piedi puoi fare anche la verticale impostazione se vuoi eh allora no 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 va bene lì con una mano sul magnesio ok così partite tutte dallo stesso punto il massimo fino in fondo e ti butti sul tappeto blu eh ok le mani c'è il segno facciamo un segno con un pezzettino di magnesio la seconda dai ok Michi Marti adesso facciamo il segno solo se superiamo la riga va bene partite in piedi tu? devi mettere la prima mano sul segno però eh sì sei sicura che partite in piedi? no no lo so puoi partire in piedi mi sembra che c'è poco spazio no? no va bene no 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 è un altro tentativo vero? eh io te l'avevo detto vabbè riprova Marti io ti lo provo mi parmi un favore partite in campestazione brava brava applauso alla Marti sei pronta Erika? vediamo vai tu Marti dopo la dai Eri dai Eri dai Eri dai Eri dai Eri fa vedere ne ho due fa vedere in che senso ne hai due perché l'uno è guardato sul pollice e l'altro piede ok non sapevo se guardare la trave o il tappeto i giri al corpo libero sono i giri al corpo libero guardare la trave o il tappeto vai Marti Marti potete lasciare anche le gambe aperte ciao Marti Alice quindi per adesso è in testa chi? la Micola ecco perché stai lì eh dai brava secondo me ce la facevi arrivare fino a battere la Mickey secondo me però secondo te no allora Emma massimo dei punti se arrivi fino in fondo e vai giù sul tappeto ok vediamo se la nostra verticalista ce la fa ma posso seguire come voglio? certo ok no 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 dai che sei a metà è dura si top vediamo se qualcuno riuscirà è infinita Camilla già stai barando i due centimetri adesso lo sto toccando si ok con l'ombra la stai toccando dai dai Camilla fai vai piano l'importante è che non hai fretta vai piano l'importante è che non hai fretta io ti do le spalle si vai nessuno ha provato tranne l'irene dai piano piano non avere fretta no non ce l'ha fatta guarda la piccola come se la ride posso provare una cosa? si dai hai sbagliato parte irene irene daire brava brava Sei io e a metà. Sei io e a metà. Ma no, ci avevi quasi fatta, Iri. Bravissima però. Sei in seconda posizione per ora. No, no, ma va bene, lo so io. Va bene, va bene, Iri. Faddi. Mancano Letizia e Emma? Vediamo. Sì. Sì. No, Letizia, tocca a te. Vediamo se riesce a battere la nostra regina indiscussa delle verticali. Grazie. Sì brava brava ce la fa prime a pari merito la Emma con Letizia bravissime terzo posto per Irene venite qua al podio ma sono a scopo ritardato ma neanche prima e se prima allora pochino insomma già da sei arrabbiata scioccata speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei nostri nuovi video e andate a seguirci anche su Instagram ci chiamiamo Centro Sforbollate che ogni giorno mettiamo le storie dei nostri allenamenti ciao ciao Ciao!